E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui sulla Helberach Oggi siamo qui, ho messo la season 9 Perché volevo farvi vedere un po' di neve Ho preso lo snow, quello che la butta fuori, la neve E poi ho preso il sale, che dopo andiamo a spandere Spandiamo un po' da queste strade, alleviamo un po' di neve, togliamone un po' Questa non è proprio una strada, però intanto togliamola Perché è un buon passaggio da qua in casa C'è un piccolo campo dove c'è una strada qui Che si può spalare Infatti lo dobbiamo fare Mettiamola qui dentro al campo del povero signore Se vi piace la snow Sinceramente a me la snow, nel senso nella vita reale, è bella Però sul farming, che rompe un po' i... i parones, non è tanto bella Buttiamo tutta la neve fuori, col nostro 5 e 15 Che se la tira bella forte, questa cosa Andiamo Andiamo, 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 andiamo Oh bello sparare la neve, molto molto bello. Che freddo. Volevo portarvi un video, non ovviamente a meno uno, eravamo tipo a meno uno, un po' di meno forse pure, no meno di meno uno, meno di meno, meno di meno uno, e volevo portarvi un video sull'aratro, no eravamo a meno uno si, però era a meno uno e non mi faceva fare, quindi ho detto vabbè poi io lo porto il video sull'aratro, ai miei iscritti. Ho detto perché è così tanti soldi, ho venduto la trebbia, perché mi è venuto in mente di fare una cosa, cioè invece di avere una cosa fissa che poi dopo un po' annoia, ogni episodio che facciamo di mesi dura cambiamo, la cambiamo. Sto spalando pure qui perché alla fine non hanno spalato bene quelli del, del questo comune, in questa piccolissima città. E quindi ci pensiamo a noi, dando carniere, arriviamo a casa a spalare i bordi delle strade. Poi ovviamente a certe parti non l'hanno potuto fare, tipo ai bordi perché era proprietà affiugata, ma a noi non ce ne importano. E quindi lo facciamo lo stesso. Me lo deve fare anche all'altro lato, ma vanno su uno solo, non me ne frega. E quindi, sto scherzando, vabbè, oddio, cosa c'era lì? Un paletti, paletti, aiuto paletti. Tanti paletti. Tanti paletti. Sto continuando a prendere paletti. Un altro paletto, per ora da qui va bene, facciamoci la casa per strada, la strada per casa, la casa per strada, la strada per casa. Da qui invece dobbiamo mettere un po' di sale, mi sa, infatti. Noi accesso a questo terreno, però noi ci mettiamo lo stesso, intanto la mappa è un po' bugata. Mettiamo un po' di sale da qui, ok. Andiamo, oddio, da qui in mezzo. Facciamo un po' prima, così. Ok, abbiamo fatto il giro, adesso passiamo anche davanti al concezionario, mi sa, ragazzi. E poi andiamo a casa. Ora da qui andiamo a casa. Ci andiamo a spalare la nostra neve a casa, molto bello. Prima io per modificare dove dovevo andare ho fatto questo. E in un modo si apre la porta. E il nostro si abbassa questo, vedete? Come lo volete mettere, se è più così, se è più in basso, io lo tengo così, sinceramente. Poi abbassandolo tocca la terra. Però questo è per quando lo devi, ovviamente, portare alle altre parti questo, perché è un po' strano, altrimenti. Ma non lo devi appoggiare. Ok, ci siamo quasi. Dovremmo pulire anche le stradine dei nostri campi, però va bene. Quello... C'è tempo. Questa casa mi ricorda molto il farming 15. Ma tanto, tanto. Ecco, ed ecco i ragazzi, tipo, qui non hanno spalato la neve. Quindi ci pensa Robimello. No, sto scherzando. Citazione di uno youtuber. Che stimo molto. Sala. Salato, che non serve a niente, circa. Però, vabbè, noi lo mettiamo per non far spandare i nostri veicoli. E' anche leggermente vagato. Ah, no, non lo sta sprecando, però. Ovviamente non essendo da noi, però, vabbè. Noi ce lo spaliamo. Ce lo mettiamo. Questo coso è molto bello. Spalare la neve è molto bello. Da qui abbiamo l'accesso, quindi si eleva la neve, infatti. Si eleva anche così la neve. Facciamo anche da qui, ragazzi. Che mi sa che la strada che ci porta... No, però non lo facciamo. Visto che abbiamo tempo e possiamo ripulire le vie. Spendiamo il salato, che qua non dovrebbe stare. Perché la neve è un po' alta qui. C'è che non ho accesso a questo terreno. Questa parte porta anche... Nel posto un po' schifo, appunto. Di questa mappa. E poi, in futuro, potrebbe servirci. Magari da acquistare, se entra qualcuno. Però, credo che qui non è facile entrare nessuno. Magari facciamo un'altra serie. Se la volete, in multiplayer. Qua direi che vada bene. Lasciamo tutta la neve qui. Spaliamo davanti la casa del signore. E... Rialziamo e portiamo... Alziamo... Questo. Alziamo questo. Ok. Molto bene, molto bene. Dobbiamo pulire qua a terra un attimo. Perché da qui non si è tolta la neve. Eccoci qui, invece è tolta la neve. Era un po' troppo alta, forse. Vabbè, alziamo. E... Partiamo ovviamente alla nostra farm. C'è la gente che mi sfamma in inviti, intanto. È brutto essere da play per questo motivo. Ovviamente, lasciamo il nostro... Trattore. Dopo aver spalato... Lo lasceremo da qui, tipo. Qui il sale dovrebbe andare, quindi siamo il sale... Che toglie tutta la neve. Invece di usare la pala... Abbiamo il nostro sale. Ma potevano fare un po' più piccolo il... Il coso che lo sparge, non so. Stupido. Community varie. Moment please later. Bene. Facciamo questa chiazza qui, ragazzi. E abbiamo finito. Ok, 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 ok. Ok, magari ci terremo anche un po' di sale per il prossimo inverno a casa. Vabbè, io e ragazzi per questo video direi che è anche tutto. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare like e iscrivervi e noi ci becchiamo in una prossima.